Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati sulla Vault Farmer! Allora ragazzi, visto che siamo in autunno, abbiamo fatto tutto, abbiamo preparato gli animali, abbiamo fatto fienaggione, abbiamo fatto la scorta di pappetta, abbiamo seminato i nostri cereali, abbiamo seminato l'orto e quindi siamo pronti per l'inverno. Mentre che aspettiamo l'inverno, siamo in pieno autunno, per fortuna i posizionabili non risentono della Season Mode, quindi possiamo andare ad agire tranquillamente su frutteti, serre e fabbriche varie. Quindi iniziamo ragazzi a produrre un po' di succo di frutta. Per produrre il succhetto di frutta da vendere durante l'inverno, ai ragazzini che vanno a scuola, non dobbiamo fare altro che andare a riempire il frutteto di cacchetta, liquame ed acqua. Non avendone così tanta in farm, visto che abbiamo ancora pochi animalini, sono venuto a comprarla qui, qui da Meris, anzi davanti a Meris al negozio di animali, sono venuto a comprare un po' di cacchina e quindi adesso me ne vado al frutteto a cominciare a riempire il serbatoio. Quindi ci vediamo là. Allora ragazzuoli, tra una strada sconnessa e l'altra sono arrivato al fruttetino. Ok, adesso andiamo a fare il primo scarico, qui ci buttiamo tutto il letame del mondo. Sono tutti belli letami del mondo. Ok, giù, giù il letame ragazzi, vediamo come, anzi fammi scendere, ok, che controlliamo lo scarico. Perfettissimo, guardate come sale la montagna di letame, mi sta facendo impennare anche il grazioli. Allora, 20.000, siamo praticamente al massimo, però lasciamo qua il carico, perché comunque quando finisce andremo comunque a rifornirlo, perché comunque ho intenzione di fare un bel po' di frutta. Allora, vediamo un po', vado a prendere l'acqua, vado a prendere l'acqua in farm, a dopo. Acqua, acquetta, acquina, ok, acquina per il nostro frutteto ragazzi. Allora, piano piano, che qui ci vuole tutta, tutta, tutta la bravitù, non la bravezza, la bravitù ragazzi di Robby. Ma senza che io sto sempre a fare su e giù, mi sa che vado su oggetti posizionabili ragazzi, e mi compro, se l'ho messa tra le mod, una bella fontanella. Eccola qua, così ragazzi non perdiamo troppo tempo, mettiamo, ecco, una bella fontanella qui, lasciamo qui una botte, casomai per gli animali ne compriamo un'altra. Perché se no, qua stiamo sempre a fare su e giù, su e giù, giù e su. Tanto, anche perché poi, o ci compriamo una botte più grande, o ce ne compriamo due, io direi di comprarci un'altra botte per gli animali e vai. Visto che qua abbiamo la fontanella vicino, adesso la dobbiamo ririempire. Oddio, non c'ho l'erre moscia e mi viene male ririempire. Allora, dai, 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 allora, 4%, 2%, 1%, 0%, 0%, ok, 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 12.000 è ancora poco, quindi, io mi metto qua e ricarico adesso la botticina e riscarico il tutto, noi ci vediamo tra un po'. Arriva anche lo slurry, ragazzi, arriva lo slurry, arriva anche una bella camionata, ragazzi, di concime liquido, mamma mia che inquadratura, ok, ragazzi, quindi andiamo a scaricare anche questa, l'acqua praticamente è quasi piena, credo che sia piena, riempiamo una bella camionata di slurry, qualcuno ha ordinato dello slurry, ok, ragazzi, stiamo scaricando anche lo slurry e praticamente il nostro fruttetino adesso inizierà a fruttare il gioco di parole. Guardate, ragazzi, che bel fruttetino che abbiamo, abbiamo anche la scala pronta per raccogliere e qua abbiamo, vi avevo fatto vedere l'ultima volta un po' di dimostrazione, quindi abbiamo ancora le cassette dell'altra volta, ma l'altra volta abbiamo fatto veramente poco, stavolta dobbiamo fare molto molto di più le nostre albicocche, le nostre, ok, abbiamo, abbiamo, abbiamo robetta da fare, adesso vediamo, andiamo a controllare anche il livello dei pallet, perché ci servono anche i pallet, ma credo che siamo messi bene come pallet, sì, 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 ci siamo, allora andiamo a vedere con l'F1, allora abbiamo l'acqua, abbiamo i pallet, abbiamo, ah, ok, 20.000 è solo il letame, vedete, acqua, pallet e slurry, insomma, hai voglia a buttare dentro, ragazzi, ce ne va molto di più di 20.000, vabbè, tanto abbiamo messo comunque la fontanella lì vicino dell'acqua, quindi nemmeno l'acqua è un problema, io direi, ragazzi, di iniziare a far produrre delle cassettine qua di mele, pere, ciliegie, ne erano albicocche, erano pere, scusate, pere e prugnette, quindi, ragazzi, noi ci vediamo tra un pochetto, io inizio a far produrre, il tempo passerà, passerà l'autunno, passerà quello che vi pare, però, eh, qualcosa dobbiamo fare per guadagnare, che possiamo stare qui a girarci i pollici, e quindi dargli di succo di frutta, a dopo! Allora, ragazzi, è passata una stagione, praticamente, è passata una nottata, però, come vedete, abbiamo fatto abbastanza fruttina, adesso siamo qui alla Cave Presoire, mamma mia quanto mi piace il francese, e vediamo un attimino qua, eh, quello che c'è da caricare, Allora, qui, da quello che vedo, ci vanno le melette, però è sempre meglio, allora, qui ci vanno le mele, sì, e facciamo il sidro di mele, noi facciamo che sia succo di mela, quindi, ragazzi, io qui adesso non mi posso metter, diciamo, a scegliere le melette, le contromelette, e quindi, eh, vado subito a, eh, a scaricare, e lui, ovviamente, accetterà solo i bancali di mele, quindi, noi facciamo con l'auto, l'auto scarico, ok, andiamo indietro con la, oddio, non si vede niente qua, ok, andiamo indietro con l'auto scarico, e lui dovrebbe scaricare solo, accettare solo le melette, vediamo un po', eh, se riesco, eh, eh, così, autoscarico, ecco qua, infatti, lui ha accettato solo i bancali di melette, adesso, noi andiamo indietro, andiamo a ricaricare tutto quello che non è melette, eh, lo so, raga, è un po' una palletta, ma bisogna fare così, ok, perfetto, quindi, infatti, non dovrebbero esserci più mele, eh, sì, ci sono due mele, però, perché? Perché ci sono due mele? mmm, aspetta, eh, cerchiamo di, eh, di scaricare anche queste due melettine, allora facciamo così, eh, ok, in modo che lui prende solo le melette, guardate che brutto tempo stamattina, ragazzi, ok, eh, allora, adesso dovrebbero non essere più melette, un attimo, e cerco un'inquadratura, eh, che sia degna di questo nome, ok, ok, sì, non ci sono più le melette, vedete, ci sono solo pere, pere, ciliegie e prugne, perfetto, le melette ci sono, scendiamo, ecco qua, ecco qua il primo succo di frutta, il sidro di mele, ma che se bevono sti francesi, raga, noi facciamo che sia succo di frutta la mela, perché il sidro di mele non si può sentire, comunque ecco qua le nostre melette in magazzino, ce ne sono, eh, 9.643 e 833, eh, litri già di succhetta, ammazza quant'è veloce sta fabbrica, adesso noi saliamo, andiamo a fare gli altri succhetti, gli altri succhetti, vediamo un po', allora, vediamo un po' che cosa accetta qui, allora, 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 eh, F1, allora, qui, eh, batte che non ci serve, mi sa, l'F1, non c'è qui il disegnino? Ci dovrebbe essere il disegnino, eh, aspettate, eh, vediamo se, eh, ok, si scarica tutto qui, allora, qui, eh, sono le prugne e qua sono le ciliegie, quindi perfetto, succo di prugna e di ciliegia, saliamo, e scarichiamo anche questa cosa qui, perfettissimo, poi devo vedere dove, allora, dovevo vedere dove mettermi le pene, dove devo mettermi le pene, io vi chiedo di non essere volgari, ragazzi, quindi so già dove volete andare a parare, ok, una bella retromarcetta, guardate come vado dritto in retromarcetta, ormai ho imparato, ragazzi, i primi tempi andavo a zigo zago, adesso ho imparato, allora, andiamo un pochettino più avanti, eh, con il tasto B, ragazzi, di questa bella mod, si sceglie il latino da scaricare, andiamo indietro, perfetto, un attimo, ok, le, eh, le prugnette sono scaricate, adesso tocca le ciliegine, mannaggia che proprio le ciliegine stanno proprio su, su in cima, forse mi conviene, eh no, vai, le devo scaricare per forza, dai, vado indietro, così, salve, carico di ciliegine, ammazza quanto urlo, ma che urlo, scarico di ciliegine, perfettino, ok, ricarichiamo le pelette, ok, mi sa che ho caricato pure qualche ciliegina, eh sì, eh sì, perché il trigger non l'aveva presa e io l'ho ricaricata, proviamo di lato, eh, lo so, eh, lo so, di, di lato è un po', è un po' un casotto, perché sono arrivato, basta, prima che spacco tutto, vediamo un po', ok, perfetto, raga, perfetto, raga, buono così, buoni tutti, allora, le pere, dove andavano? Al contadino, non far sapere, quando, dove Robby deve ficcarsi le pere, allora, io adesso qua, mi dico, oh, raga, l'ho presentata io sta mappa, ah, qua dentro, qua dentro, ok, ok, qua dentro, le pere vanno sotto, lo so, raga, lo so quello che state pensando, dice, Robby, l'hai presentata tu sta mappa? Eh, lo so, raga, lo so, purtroppo, la mente di Robby è quello che è, vediamo se riusciamo, no, da dentro è possibile, andare, andare in retromarcia dalla visuale interna è praticamente impossibile, ok, entriamo senza far danni, Robby può farcela, può farcela, vediamo un pochettino, un pochettino, ecco, fa, uh, 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 ok, indietro, oh, ah, ok, eh, mamma mia, l'è basso sto soffitto, come l'è basso sto soffitto, ragazzi, 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 non vedo una mazza, ragazzi, mi devo afficinare l'inquadratura, e perché non vedo una mazza, ok, così, perfetto, le nostre belle botti, raga, ma che è vino che ci sono le botti, buh, vabbè, qua, eh, scarichiamo tutto, non è un problema, eh, ok, così, scarica, oh, dai, non fare la stupidina, cassa, su, non fare la stupidina, staccati, allora, un attimo, scaricati, ok, perfetto, vediamo qua, eh, quanto, che cosa, che cosa ci dice, che cos'è sto prodotto, non me lo ricordo, eh, puar, puar, palle, puar, sì, succo di pera, credo, che sta dentro a ste casse, qui sembra vino, ma che ne so, ragazzi, adesso, vediamo quando esce, io mando un attimo avanti il tempo, ragazzi, così vediamo anche i prodotti, allora, ragazzi, qua è venuto fuori la stessa cosa del sidro di mele, qua, solo che è pere, vedete, eh, prodotto di Valfarmer, eccolo qua, il succo, il succo di pera, adesso io, con la mia super velocità, flash, ah, ah, ha sbattuto il muro ancora, un attimo, eh, flash, ok, con la mia super velocità, vado a vedere anche qua, il prodottino qua, eh, tutti uguali, succo di, eh, prugna e, eh, succhettino di, eh, ciliegino, ecco qua, guardate che spettacolo, occhio al succo di prugna che vi fa venire la cacchetta, allora, io intanto torno in farm, ragazzi, e ci prepariamo un pochettino per l'inverno, allora, io prima di salutarvi, ragazzi, vi do, eh, innanzitutto mi scuso, mi scuso se questi video un pochettino stanno andando a rilento, per due motivi, il primo è, come ho detto, che mi concentrerò di più sui video di farming, che sono quelli che hanno il più visual e che vi piacciono di più, perché il mio intento è quello di fare visual, non per me, ma per farvi divertire a voi, quindi se ci sono visual, voi vi divertite, il video vi piace, quindi, ragazzi, è per quello, eh, e poi per motivi di tempo, perché per fortuna, per i prossimi due o tre mesi ho firmato un piccolo contrattino di lavoro e riesco a lavorare, purtroppo sono lavori così, saltuari, due o tre mesi, però, ragazzi, questo che, quello che si rimedia bisogna prendere su sempre, e quindi per questo motivo i video magari non avranno una cadenza precisa, scusatemi se la comunale invece di domenica esce martedì, invece, cioè, non prendete troppi, eh, troppo per oro colato i giorni, ecco, voi mi raccomando, mi stavo soffocando con una caramella, voi mi raccomando, eh, iscrivetevi al canale e, eh, mettete la campanellina, una volta che avete attivato la campanellina, vi arrivano le notifiche dei video, se proprio non vi funzionano le notifiche, ogni tanto date uno sguardo sul canale e se c'è qualche video sicuramente, eh, lo vedrete. Detto questo, ragazzi, eh, io vi voglio, eh, leggere i commenti, leggere i commenti dell'ultimo video dell'AvaFarmer, eh, un saluto a Pietro Costamagna, un saluto, ehm, vediamo un po', un saluto all'Age500, scusate se vado ad ammazzarmi, ma sto guardando il, il, il telefono, non si dovrebbe fare, un saluto a Taliesin, Enrico P, un abbraccione a Enrico P, Gennaro D'Auria e Douglas, Douglas, Domenici Agosti, che mi dice che, eh, mi ha conosciuto con, ehm, con, eh, la presentazione dell'AvaFarmer e in una settimana si è visto tutta la serie. Grazie, grazie mille, sei un grande, eh, speriamo di, eh, riuscire a far uscire i video più velocemente possibile. Ragazzi, detto questo, polliciotto, come al solito, iscrivetevi al canale, in descrizione tutti i miei social, e il link per comprare i giochini scontatissimi su Insta Gaming, non è un obbligo, dateci un'occhiata e basta, è un consiglio. Eh, noi ci vediamo al prossimo video della Val Farmer. Ah, ragazzi, la Val Farmer diventerà forse multiplayer con i miei amici che mi danno una mano, chiamarlo staff non mi piace perché sono amici di altri staff, diciamo, che ho conosciuto e che me li porto con me ogni tanto a darmi una mano, quindi probabilmente, eh, diventerà Multi, eh, così come la Comunale, anche la Val Farmer, perché qui non arrivo più da solo, la ditta si sta ingrandendo e quindi, eh, sto assumendo qualche operaglietto. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video della Val Farmer, forse il Multi. Ciao! Ciao!